A Reggio Calabria, i carabinieri hanno portato a termine un'azione mirata contro un gruppo di individui sospettati di essere coinvolti in attività criminali legate alla gestione illegale di rifiuti. Questi individui, compresi uomini di varie età con precedenti legati all'ambiente e all'associazione di tipo mafioso, sono stati individuati come titolari e dipendenti di un'azienda operante nel settore della demolizione e movimento terra. L'indagine, partita nel gennaio e conclusa sia ad aprile 2023, ha coinvolto una vasta attività di sorveglianza e raccolta di prove da parte dei carabinieri della locale compagnia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Questa investigazione ha rivelato un intricato sistema di traffico illecito di rifiuti con la complicità di falsificazioni documentali e utilizzo abusivo del territorio pubblico. L'azienda coinvolta avrebbe ricevuto e trasportato illegalmente grandi quantità di materiali inerti provenienti da lavori edili non autorizzati, al fine di lucrare illecitamente eludendo le leggi ambientali. Particolarmente preoccupante è stata la scoperta che i rifiuti venivano riversati nel torrente Pallanidi, causando un grave danno ambientale e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. L'uso scorretto del torrente ha alterato la sua conformazione naturale, creando barriere che possono aumentare il rischio di esondazioni, già presente in un'area precedentemente colpita da una tragedia nel 1953. L'operazione ha comportato il sequestro preventivo del patrimonio aziendale, compresi mezzi di trasporto e conti bancari, al fine di interrompere le attività illegali e prevenire ulteriori danni ambientali. È emerso che i soggetti coinvolti avevano precedentemente subito provvedimenti giudiziari per attività simili, confermando il loro legame con organizzazioni criminali del territorio. Quest'operazione non solo dimostra l'impegno delle forze dell'ordine della lotta alla criminalità ambientale, ma sottolinea anche l'importanza della tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica per il benessere delle comunità locali e delle generazioni future. La sensibilizzazione e la vicinanza sull'ambiente rappresentano una sfida cruciale per le autorità che devono affrontare le minacce alla natura e alla sicurezza dei cittadini con determinazione e tempestività.